Vi vediamo subito un video che arriva dalla Cina, lo vediamo un attimo, un assaggio, perché vedete tutto il mondo mette il tricolore in senso di sostegno da Toronto al... Eccoli, questi sono invece i cinesi che ci mandano il saluto e ci fanno un segno di forza. Insomma, siamo legati da questo triste destino in questo momento, quindi il video ci dà praticamente la forza che arriva dalla Cina, ma se dobbiamo prendere a confronto, professore Albertini, quello che è successo in Cina, quello che sta succedendo qui, che cosa dobbiamo aspettare perché inizia anche qui a calare questo...